Eccoci qua, neanche pochi giorni dopo tutto lo scandalo successo inerente al Pandoro di Chiara Ferragni che esce fuori che quella situazione lì non è stata una casualità, ma era uno schema frequente Infatti Chiara Ferragni avrebbe effettuato la stessa identica procedura per le uova di Pasqua come dice appunto il Corriere della Sera Reparto Economia dove incassa più di un milione di euro lei e 36.000 euro all'Associazione dei Bimbi Ma procediamo con ordine, questa volta si trattava delle uova di Pasqua fatte in collaborazione con Dolci Preziosi dove ancora una volta Chiara Ferragni effettua una comunicazione un po' fumosa perché si legge che lei con Dolci Preziosi va a sostenere il progetto per i bimbi delle fate che è un'associazione che finanzia progetti per bambini e ragazzi affetti da autismo In realtà però la donazione è stata effettuata soltanto dall'azienda Dolci Preziosi che ha donato 36.000 euro in due anni Chiara Ferragni anche questa volta avrebbe incassato 1,2 milioni di euro da Dolci Preziosi senza chiaramente donare niente Inoltre, come anche per il caso del Pandoro Balocco, anche per le uova di Pasqua non vi sarebbe correlazione fra le vendite dell'azienda e l'identità della donazione come invece la comunicazione dell'influencer Chiara Ferragni avrebbe lasciato intendere Fra l'altro, Franco Antonello, fondatore dell'associazione dei bimbi delle fate ha risposto che loro hanno stretto un accordo con Dolci Preziosi e che quando Dolci Preziosi voleva scrivere che la donazione era legata alle vendite loro si sono rifiutati ma hanno solamente permesso a Dolci Preziosi, non a Chiara Ferragni di utilizzare l'espressione Sosteniamo i bambini delle fate Inoltre, il fondatore dell'associazione Bambini delle Fate ha provato più volte a contattare Chiara Ferragni ma non è mai stato possibile e chiaramente si è un attimo stupito anche del fatto che hanno dato 700.000 euro per il testimonial e 12.000 euro di donazione cioè è una vergogna ecco ma non finisce qui infatti Chiara Ferragni avrebbe rimosso tutti quanti i post inerenti a questa promozione dal suo profilo che però, purtroppo, sono ancora presenti sul profilo di Dolci Preziosi Official dove si leggono espressioni come troppo fiera di sostenere i bambini delle fate insieme a Dolci Preziosi quando in realtà Chiara Ferragni non può utilizzare questa espressione perché lei non ha donato assolutamente nulla anzi ha solo ricevuto senza contare le numerose testate giornalistiche come il Corriere della Sera o Vanity Fair che addirittura hanno scritto i proventi delle venite saranno devoluti ai bambini delle fate e anche qui il team di comunicazione di Chiara Ferragni non ha chiesto nessuna rettifica al riguardo ma non aggiungo altro voglio sapere voi cosa ne pensate quindi fatemelo sapere con un commento qui sotto noi ci vediamo a un prossimo video in linea allo studio in linea allo studio Grazie a tutti.